Pareggio per 2 a 2 tra Lecce e Milan, vittoria dello Juventus per 2 a 1 contro Cagliari e pareggio ancora tra Monza e Torino per 1 a 1. Ma partiamo dalla partita di ieri pomeriggio, quindi quella somma tra Milan e Lecce è finita per 2 a 2, una partita folle. Una partita folle perché il Milan nel primo tempo è in vantaggio per 2 a 0. Nel secondo tempo il Lecce è tornato, come si dice in gergo nerd, in frenzi, in campo. Quindi ha totalmente schiacciato il Milan, aveva una cattiveria, una fame, veramente mi è piaciuto molto il Lecce. E devo dirvi che mi è dispiaciuto che non abbia portato a casa il risultato, ma semplicemente perché una squadra piccola ha veramente messo alla berlina. La squadra di Pioli, l'ha messa veramente in modo importante, in difficoltà. E veramente in questo caso gli spunti sono infiniti perché in primis ok, il Milan in vantaggio per 2 a 0, inizia il secondo tempo. Hunter Hernandez, che non lo so a volte cosa li prende, perché Ranto, la terra, c'è minchia, neanche gli avessero reciso i legamenti crociati con un ferro arroventato, perché nel secondo gol, il gol del pareggio di Bandà, era lì che si rotolava, vabbè, in modo veramente assurdo. Mollecci, che ripeto, ha sfruttato le indecisioni da difesa mianista. Fondamentalmente però bisogna concentrare, o meglio, voglio concentrare le mie osservazioni negli ultimi minuti di gioco. In primis, l'espulsione di Giroud. Allora, sembra che il feo di Pongle, di mano, ci sia stato. Errore, non fischiarlo. Però, evidentemente, soprattutto per l'espulsione, diciamo così, secondo me è centrato molto quello che ha detto Giroud all'arbitro. E onestamente non si può sapere. Giustamente lui ha reagito di frustrazione e l'arbitro, una volta che ha sentito un pochino una frase un po' troppo fuori dalle righe, evidentemente, si è sentito di cacciare fuori il cartino giallo. Ok, pochi minuti dopo, il gol del Lecce. Allora, quindi, un gol poi annullato perché Piccoli ha schiacciato il piede di Chao. Si è visto poi nell'azione che comunque subito dopo Chao è tornato, o meglio, dopo il contatto, Chao si è subito rialzato ed è andato a contrasto, appunto, è tornato parte viva della situazione. Allora, analizzare questo episodio è veramente difficile. Perché? Da regolamento ci sta. Cioè, da regolamento è giustissimo annullare. Bisogna discutere se il regolamento è sensato. Questa è un'altra roba. Ma del regolamento, ragazzi, il piede di piccoli su quello di Chao, sulla punta del piede di Chao, c'è stato, è il regolamento che è fatto male, non tanto l'aver giudicato male l'intervento in sé, poi, che ci sia il discorso che magari quel contatto poi è stato, tra virgolette, abbastanza, è venuto prima dell'uncusione di piccoli, è innegabile, perché comunque poi diciamo, Chao ha zompettato per tre secondi, poi è tornato subito in piedi, poi ha seguito, diciamo, l'azione. Quindi, a livello, perdonatemi il termine, etico, secondo me non è da annullare, perché non è che piccoli ha fatto uno step on foot, per dire minchia, faccio l'intervento falloso. Cioè, cammini indietro, 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 quando ti sta dietro e gli puoi schiacciare il piede, quindi a livello etico non era da annullare, ok? A livello etico. A livello regolamentale, sì, è giusto che è stato annullato il gol del Lecce, perché lo step on foot è stato reale. Peccato, perché secondo me il Lecce per quelle razioni di nervi, ripeto, in Frenzy, o magari, chiama la mitologia nordica, gli unici giocatori sembrano dei berserker, no? Però, insomma, quel bellissimo gol di piccoli annullato da questo step on foot dello stesso piccoli su Chao. Partita del pomeriggio. Una Juventus che crea poco, che deve sempre creare il più del possibile per fare un minimo risultato, due gol su punizione, più il gol del 2 a 1 del Cagliari sempre su punizione, due gol dei difensori della Juventus, un gol difensore del Cagliari. al discorso che due gol si erano venuti a calcio d'angolo e foriero del fatto che c'è una grande difficoltà ad andare in porta. Dato che tutta la squadra sembrava al completo, ragazzi, un'eresia tiene fuori Vlaovic. perché i chiese Ken sono due che non ti danno riferimento alla difesa avversaria. Il problema è che non danno riferimento neanche a loro stessi. Perché sempre che dicano oh, ma i chiese dice oh, dove sta Ken? Ken dice oh, dove sta chiesa? Che devo fa? Ken non è l'attaccante che ti protegge palla, che ti fa salire la squadra. non ha avuto questo in dote e non ce l'avrà mai probabilmente. Però la Juve vince questa partita da Juventus in chiave 2023-2024. Ne ho parlato anche in live solo con i Twitch di Fiaty Eldon nella trasmissione ma che calcio dici e io gli ho detto se la Juventus dovesse giocare da Juventus non avrà grosse difficoltà. e la Juventus fondamentalmente ha giocato da Juventus questa Juventus perché le eccezioni sono la partita contro l'Udinese la partita contro il Verona non è questa. Questa è una costante della Juventus quindi quella è la vera Juventus quella di stasera. Una Juventus che ha delle difficoltà che però ha la forza del gruppo che ha delle buone individualità che sta rivitalizzando questo Rugani l'ho detto anche da Fiaty Eldon a me fa piacere per Rugani perché Rugani per anni è stato accusato di essere un peso l'unico peso che si porta sulle spalle Rugani è l'ingaggio alto ma non è colpa di Rugani se ne hanno deciso di pagarlo 4 milioni di euro netti più o meno stagione ragazzi avreste detto di no no scusate io penso di valer di meno quindi ne chiedo due ma pago una colpa non sua ma i dati di fatto con l'assenza di Danilo e di Alessandro ragazzi Rugani sta rendendo sta rendendo un elemento importante in questa difesa composta da tante lucine che piacciono ai nerd moderni perché dalla BBC siamo passati alla difesa RGB Rugani Gatti e Bremer qui insomma se magari a volte poteste vedere le loro facce che si illuminano diverse perché insomma la RGB una Juventus con questa vittoria si porta prima in classifica a 22 punti in attesa dell'Inter ma allo stesso tempo va a più 6 dal Milan perché il Milan rimane a 23 e deve aspettare il Napoli che ad ore quarto a 21 che se dovesse vincere supererebbe il Milan andrebbe a 24 punti con il Milan a 23 con l'Inter a 28 ma che deve giocare ancora contro Frosinone e con la Juventus a 29 dura dura per Pioli dura per Pioli io sono della corrente non dico Pioli out ma che quest'anno potrebbe essere seriamente l'ultimo anno di Pioli perché il ciclo di Pioli è finito comunque torna la Juve la Juventus è questa ha futuribilità questo progetto? no non ha futuribilità ma at the same time Allegri è l'uomo in più di questa Juventus perché secondo me nessun allenatore potrebbe dare la svolta al gioco della Juventus perché la Juventus è questa e Allegri sta facendo un ragionamento di razionalizzazione che piaccia o non piaccia perché finché poi razionalizza adora e porta a casa i punti va bene giustamente se poi comincia già segni poco già avanti col cortomuso e poi magari comincia anche a giocare ancora peggio e perdi anche le partite allora il problema c'è ma la Juventus è questa qui volenti o non volenti poi partita serale Monza-Torino chiusosi per 1-1 con reti di Ilic e di Colpani il mio amato Colpani ahimè però secondo me devo dirlo questa volta l'arbitro gli assistenti il Vare e Tutto ha messo su Zampino perché ragazzi non ditemi che fallo quello di Zappata su Caldirola Caldirola è stato Forbo perché sapeva che facendo in quel modo il Vare sarebbe intervenuto l'arbitro inizialmente dove penso che fosse stato aveva convalidato poi il Vare evidentemente l'ha richiamato ha detto c'è fallo ma fallo dove Caldirola si è frapposto si è buttato a pesce morto perché Zappata non si vede una strattonata non si vede una spinta non si vede niente Caldirola è stato furbo a buttarsi e sono stati degli emeriti prendetemi il termine inetti coloro che si sono fatti abbindolare abbindolare dalla caduta di Caldirola punto io il gol l'avrei dato ma sapete perché un altro motivo perché l'avrei dato al dia del presunto fallo perché Caldirola ha voluto fare il furbo e a me chi fa il furbo mi sta sui maroni Caldirola sapeva che facendo quel tuffo così sarebbe stata riguardata l'azione e sicuramente non è il primo e non sarà l'ultimo che attuera questi mezzucci quando per dire e ragazzi guardate la stazione e poi magari mi sono buttato però guardatela e ora come ora quando c'è un tuffo si guarda che sia vero o falso o meglio che sia stato un tuffo derivante da un contatto o no quindi prima cosa poi bella azione del Torino vabbè va in vantaggio piccolo infortunio di Ginetis che entra dal posto di Netti perché tu lì l'esperienza fa ma tu lì non puoi aspettare il rimbalzo devi aggredire il pallone perché tu sei quasi l'ultimo uomo e se troppo troppo il rimbalzo ti scavalca o fa un rimbalzo fasullo tu sei tagliato fuori tu lì devi aggredire il pallone di testa c'eri sul pallone ma sono d'accordo con Juric che ha detto imparerà dall'errore può succedere imparerà dall'errore un tono che tra l'altro sta andando molto meglio col 3-5-2 con questo Blasic un po' reinventato mezz'anno secondo me dell'arbitro e guai a chi dice e vabbè ma Lazzaro è stato pollo Lazzaro è stato onesto perché quel calcio sullo stinco c'era e Lazzaro era sul pallone ergo non è che c'è soltanto se uno casca in area devi andare a vedere al VAR ok se c'è un giocatore che zompetta perché si tocca la gamba come è stato rivisto il gol di piccoli contro il Milan per 3 secondi stesso tempo che ci ha zompettato rispetto a quello insomma di Lazzaro che ha zompettato anche lui tenendosi lo stinco tu devi andare a rivedere invece non si è buttato perché magari non è stato suo istinto non è stato furbo come Caldirola quindi non rivediamo l'azione perché se avessero rivisto è vero che non è cascato ma il calcio sullo stinco c'era il calcio sullo stinco c'era il calcio sullo stinco in area di rigore è rigore punto ed era anche volontario nel senso che non è che il giocatore del Monza ha agito per dare un calcio sullo stinco a Lazzaro pensi magari ha sbagliato è stato un'imperizia ma sempre fallo da rigore quindi questa volta mi sento dire che al netto che non bisogna avere alibi che il Torino avrebbe potuto segnare qualche altra volta in più ma allo stesso tempo è vero anche che Minkovicavic ha salvato anche un po' di palloni però quando ti annullano un gol che secondo me come di Rodriguez ovviamente non andava annullato né mò né mai perché il foro di Zapata non esiste non c'è come potete avere l'opportunità eventualmente di andare di vincere al 95esimo perché ti fiscano di rigore secondo me è netto Lazzaro è stato onesto non si è buttato e guai ancora chi dice è stato un pirla Lazzaro che non si è buttato doveva buttarsi perché così li chiamava l'arbitro no le condotte che vanno punite sono quelle di Caldirola non quelle di Lazzaro poi nel calcio moderno e nel mondo moderno che alza la voce metaforicamente come ha fatto Caldirola ha i benefit invece chi sta zitto e lavora e magari tende a non indurre l'errore l'arbitro lo induce a sbagliare involontariamente indirettamente poi annetto per l'amore di Dio che il Monza è una squadra simpatica che c'è col Panic che ripeto è un mio amore calcistico però quando l'arbitro sbaglia bisogna dirlo e in questa partita è sbagliato ben due volte secondo me diciamo la squadra arbitrale fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate mi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi